Ciao a tutti, benvenuti su MTGPS, ma è Magistro Flotus. Allora, partiamo subito da Bonecrusher Giant, è una carta che conta 6.000 copie, quindi tantissime, che però ha una versatilità abbastanza alta, quindi si gioca sia in Modern che in Pioneer, e per questo direi che, visto il costo, può essere un chip investment molto 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 performante. Se riuscite ad acquisire una ventina di copie, potete farci veramente un guadagno decente. Se poi, per caso, non dovesse salire, che ci sta, perché viene ristampata ancora, eccetera, avete comunque speso veramente poco. Come potete vedere, il prezzo è molto basso. La seconda è Magos Freggia Spirito, anche questa, con il Pioneer in ascesa, questa carta potrebbe risalire. Era ascesa per via di una ristampa in un deck precostruito, e quindi è crollata a prezzi veramente bassissimi. Le copie sono tantissime, sono 4.200, però questa carta può salire in fretta, perché la carta merita veramente tanto. Cioè, è veramente forte, anche questa si può giocare anche in Modern, e si può giocare, credo, anche in qualche lista di commander agro-tempo. Quindi, secondo me, anche questa, per il costo che ha, è un buon investimento. Come potete vedere, si trovano veramente tantissime copie. Altra carta, Vetto di Dovin, anche questa sta salendo in più versioni. Questa è la versione più bella, secondo me, veramente stupenda. Quindi vi consiglio di investire in questa. E, diciamo che la salita di questa carta era abbastanza prevedibile, nel senso che, come potete vedere, sta salendo verso l'euro. E, era abbastanza prevedibile, perché la carta è molto, molto forte. È un negate incounterabile, che sposta veramente tanto. Allora, lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate e attivate la campanella. Ciao!